Passaggio a livello al confine tra Cittadella e Rossano Veneto in via della salute. Questa mattina è rimasto bloccato con un veicolo tra le sbarre. Fortunatamente il sistema ha bloccato la circolazione dei treni. Quelli dell'Etra, un camioncino per prendere su i rifiuti. E' fermato il camioncino e si è abbassato le sbarre. Era fra le sbarre dentro e fuori. Quando è partito si è abbassato la sbarra e è partito e ha rotto la sbarra praticamente. E quindi li ha bloccato? Li ha bloccato il treno. Perché quando la sbarra si sposta c'è un micro che blocca il treno. L'incidente risolto in mattinata ha comportato però un forte disagio nella zona. Questa strada di campagna apparentemente tranquilla in realtà è una scorciatoia molto usata dai lavoratori pendolari che si spostano tra i due comuni. Non c'è spesso che a passaggio di Vello si fermi tanto così. Il problema è che qui c'è un passaggio troppo intenso e elevato per la percorrenza, per la caraggiata di questa strada che è quasi comunale. Quindi secondo me il passaggio è troppo elevato per quello che consente il passaggio e la larghezza della caraggiata. Capita spesso inconvenienti in questo punto qua. A lei personalmente cosa ricorda? Ma c'è stata anche gente qua che è morta.